Episodio 42 di Excel, continuiamo ad aggiungere mattoncini alla nostra conoscenza delle varie formule che abbiamo in Excel. Oggi parliamo di confronta e indice che potremmo usare in combinazione. Il mio scopo, ve l'ho già detto più e più volte, è farvi capire che queste funzioni possono essere mischiate, usate insieme tra di loro, quindi le possibilità in base alle vostre necessità sono pressoché infinite. Allora, quello che voglio andare a fare oggi, abbiamo ancora la lista dei prodotti, ho aggiunto l'ID, voglio andare a pescare, in questo caso potrebbe essere il nome, la categoria o altro, in questo caso ho messo il nome prodotto, in base all'ID. Quindi ci saranno poi altre funzioni che ci renderanno la cosa molto più semplice, ma si partirà qua anche perché queste funzioni, nonostante sono state, diciamo così, superate da altre, possono essere comunque usate in altre situazioni, motivo per cui vanno sapute. Allora, l'ID del prodotto, ne prendiamo una a caso, prendiamo questo, io vado qua e abbiamo il nostro ID di prodotto. Quello che voglio fare adesso è trovare l'ID della riga su cui si trova, che non ci troverà questo, il 5, ma vedrete che partirà dall'inizio della nostra tabella, perciò adesso lo facciamo e andiamo con uguale, confronta, eccola qua, confronta ci chiede il valore di riferimento, che vogliamo prendere in questo caso l'ID del prodotto e la matrice in cui dobbiamo cercare, perciò punto e virgola, la matrice in cui andiamo a cercare è questa. Tuttavia, prendiamo anche l'etichetta, facciamo così, se io chiudo qua, faccio ok e vedete che ci dà 4, perché è 1, 2, 3, 4, ok? Quindi partendo dall'etichetta ci troverà la riga, questo perché abbiamo per scontato che la tabella comincia effettivamente qua. Proviamo ad andare a cambiare e mettiamo da C3 così a C12 e vedete che ci dà 3. Potete scegliere dove partire, potete far partire dall'etichetta così come potete scegliere dalla prima riga. Fatto questo, vogliamo prendere il nome del prodotto. Andiamo a utilizzare indice, quindi uguale indice, che cosa fa? Restituisce un valore o un riferimento della cella all'intersezione di una particolare riga e colonne in un dato intervallo. Un disastro, non si capisce niente. Allora facciamo indice e prendiamo la matrice. Per matrice prendiamo tutta la tabella, ok? Quindi vogliamo cercare, vogliamo poter cercare dati in tutta la tabella, punto e virgola. La riga di riferimento in cui sappiamo che abbiamo i dati, quindi capite che adesso stiamo facendo due funzioni separate. In realtà potremmo mischiare tutto insieme. Se vogliamo il nome del prodotto in base all'ed del prodotto, ci bastava unire confronta con indice. Qua l'abbiamo separato, comunque la riga di riferimento, vedete, noi sappiamo che è la 3 in questo caso. Però attenzione, perché abbiamo selezionato precedentemente, vedete, 3, 1, 2, 3, perché non abbiamo selezionato l'etichetta. In questo caso stiamo selezionando l'etichetta, perciò dobbiamo tornare indietro e fare da C2. Ecco perché abbiamo selezionato l'etichetta, capite adesso il motivo? Da C2, perfetto. Quindi ci mettiamo qua, uguale, indice, qua, la matrice, prendiamo ancora tutta la nostra tabella. Certo, potreste prendere solo qua, però poi dovete cambiare i riferimenti, quindi noi prendiamo tutta la tabella, ok? Andiamo qua, la riga sappiamo che è la 4 e la colonna di riferimento, noi vogliamo la riga 1, 2, perché vogliamo trovare il nome del prodotto. Perciò, se io faccio così, faccio ok, vedete che ci dà il prodotto 3, quindi l'id, 3, 5, 2, eccolo qua, è sulla riga 4, 1, 2, 3, 4. Giustamente l'intersezione tra la riga e la colonna di riferimento, vedete, tra la riga e la colonna di riferimento, qual è il prodotto 3? Il prodotto 3, sulla farsa riga potreste prendere qualsiasi cosa, volete prendere il suo prezzo? Nessun problema, riga 1, 2, 3, 4, scusatemi, colonna 4, bam. E abbiamo il prezzo, che è 2, esattamente. Vogliamo la disponibilità? Proviamo a fare 5, tac, e abbiamo quella che è la disponibilità. Vedete quindi come possiamo usare confronta per ottenere quella che è la riga che ci interessa, e poi andare con indice a fare l'intersezione per colonna. In questo modo possiamo andare a prendere tutto ciò che ci interessa. Ripeto, andremo a vedere più avanti delle funzionalità che ci rende più facile il tutto, ma ci potrebbe essere delle situazioni in cui vi potrebbe tornare a utilizzare uno delle due, oppure entrambe mischiate. Direi che per oggi è veramente tutto, siamo stati decisamente veloci. Fate delle prove e provate a cambiare, anzi proviamo a cambiare quello che è l'ID. Prima di chiudere, facciamo così. Vediamo se ci dà la quantità, dovrebbe essere 13. Facciamo così, bam, vedete? Riga 6, 13, quindi è molto bello, perché ci permette velocemente anche in modo dinamico di scegliere, quindi qual è il nome del prodotto, anche se noi non volessimo vederlo, abbiamo solo l'ID, una persona mi dice l'ID, poniamo il caso che me lo dettano, quindi facciamo così. Tac, tac, mi dice l'ID. Ah, che riga è? 5. Questo qua, vabbè, il nome prodotto, ma la disponibilità è 0. Abbiamo disponibilità? No, altrimenti avremmo dovuto cercarlo qua dentro, abbiamo potuto far così. E insomma, abbiamo creato un qualcosa di carino per trovare velocemente il dato che ci interessa, anche se sapete ormai che con Excel ci sono veramente tanti modi per farlo. Dicevo, sotto in iscrizione trovate tutto ciò che serve per supportare il canale, se ci tenete particolarmente, unive alla community, e poi potete fare un salto sul mio sito dove pian piano andrò ad aggiungere corsi gratuiti, documentazione aggiuntiva ed esercitazioni. Io vi ringrazio, un abbraccio, alla prossima. Ciao, ciao!